Ciò che fai è orribile. I miei ballerini non faranno mai un arabesque per lui. Vuoi sposarmi? C'è un problema. Tua madre e lei vorrà essere lì, alla nostra prima volta, durante la nostra prima notte. Volete del tè? Fai buono. Alcuni dicono che certi sacrifici siano necessari, ma non è così. Non ascoltarlo. Gli prendi la mano e gliel'accompagni lì sotto. E magari un'altra volta lo può fare da solo. Non ce la faccio. Scusami, non dovevo neanche chiedertelo. La dottoressa sospetta che sia stata picchiata. Questi sono problemi nostri. Tu non devi dire niente. Non dirò niente. Vero che sei un zoccoletto? Questa cazzo fa? Dove cazzo vai? Non lo vedi che è una ragazzina? Sì, più che perfetta. Vieni, mamma. Io non ci vengo con te. Va bene che è rotto, ma quanto ria devi dare? Oh, non ti è picciata, eh? Ho fatto a modo mio. Cosa c'è? No. Sì. Sì, una donna. Sarà difficile, ma... non rinunciare a nulla. Non rinunciare a nulla. Grazie.